Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene e mi auguro ovviamente che stiate appunto, che siate tutti belli sereni. Allora, vedevo parla di una cosa molto 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 particolare. Voi sapete bene che negli ultimi tempi c'è stato, c'è stata appunto da parte del CONI, una decisione importantissima. Perché la Juve si è regata al CONI per quanto riguarda i 15 punti. Il CONI ha fatto insomma le proprie valutazioni e aveva essenzialmente delle perplessità. Tant'è vero che i 15 punti sono stati restituiti, però si è rinviato il caso, quindi il processo, alla Corte Federale d'Appello. Quindi bisognerà fare un altro udine, un altro tipo di iter, un altro tipo di... insomma, bisognerà andare alla Corte Federale d'Appello per decidere. Il discorso però è un altro. Tanta gente mi ha chiesto, Matt, tu l'altra volta avevi fatto un discorso un po' più tecnico. Avevi detto che la Juve era stata accusata di aver violato l'articolo 4 e non solo l'articolo 31. Ovviamente l'articolo 31, ragazzi, riguarda i reati amministrativi, quindi tutto ciò che voi avete sentito, che però vanno visti, nel senso che ancora nessuno li ha esatto. E poi ovviamente c'è l'articolo 4, che è il principio di slealtà, ecco, la slealtà da questo punto di vista. Viene accusato di slealtà, però è un articolo generico, tutto e niente, in cui nessuno può andare a fare delle valutazioni. E quindi la domanda che molti mi hanno fatto è, Matt, ma quando facciamo la nuova cosa, cosa ci sarà scritto? Vi spiego un po' di situazioni. Bisogna di, raga, un sacco di cose. Prima ovviamente di iniziare come al solito. Iscrivetevi al canale, mettetevi al canale, attivate la solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante. E vi ricordo che, ragazzi, basterà praticamente andare qui sotto, cliccare su iscriviti e cliccare sulla campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati, in modo tale che ci avete tutte le notifiche. Poi vi ricordo che, se vi va, potete anche seguirmi sui social, che è molto importante. Allora, facciamo il punto della situazione in maniera, devo dire, molto molto semplice, senza andare ad inserirci all'interno di dinamiche legali che potrebbero sicuramente essere interessanti, ma anche un po', sai, stancanti. Allora, partiamo da un presupposto molto semplice. All'interno delle carte che saranno scritte dal CONI ci sarà una risposta per quanto riguarda la nuova situazione, la nuova vicenda, la nuova discussione, anzi, video di discussione la chiamerei proprio questo ricorso 2, se vogliamo, alla Corte federale d'appello. Perché il CONI, avendo una propria, diciamo, integrità, dovrebbe almeno, potrebbe contestare alla procura l'utilizzo degli articoli. Cosa vuol dire? Che il CONI può andare dalla procura e può dire, guarda, tu hai scritto questa cosa qui sopra, o guarda che tu questa cosa qua l'hai scritta perché tu hai scritto questa cosa qui sopra, cioè hai scritto letteralmente che, ad esempio, faccio un esempio molto semplice, tu hai violato, questo dirigente, questa squadra ha violato l'articolo 4 oltre a quello 31. Ma se il CONI si rende conto che l'articolo 4 non è stato violato, il CONI può dirlo, nel senso può dire, guarda, tu hai detto questa cosa, ma noi comunque ti diciamo di no, per noi ha violato solamente l'articolo 31, quindi l'articolo 31 deve essere giudicato da voi, non è che la Corte d'appello federale prende il telefono e dice noi abbiamo detto articolo 31 e articolo 4, quindi siccome abbiamo detto articolo 31 e articolo 4 decidiamo noi, non è la Corte che decide, ma è il CONI. Se il CONI nelle motivazioni scrive che l'articolo 4 non si può andare ad utilizzare, la Corte federale non lo può utilizzare, mentre se il CONI dice il contrario è normale che la Corte federale lo può utilizzare. Però la domanda principale che una persona intelligente dovrebbe porsi è se l'articolo 4, che è la slealtà, non tu vieni accusato di essere sleale a livello sportivo, ha da questo punto di vista, non lo so, un principio che è quello generale, no? Quindi non è una cosa specifica che tu vai e dici hai fatto questo e ti diamo perché tu hai provocato, è una cosa specifica. Come si può adattarlo ad una cosa del genere? Cioè il capo di imputazione della Juve sono le plus valenze. La Juve è accusata di aver guadagnato soldi illegali dalla vendita dei giocatori, va bene? Quando tu mi accusi di questa cosa, mi accusi l'articolo 31. Tutto qua. Articolo 31, non articolo 4. L'articolo 4 lo tiri in mezzo perché sai che l'articolo 31 non c'ha niente dentro, perché con l'articolo 31 si può dare una sanzione che è solo per i reati discussi. Quindi ho fatto dei guadagni illegali, ho conseguito dei guadagni illegali per quanto riguarda le plus valenze, lo stai dicendo te perché tutta sta roba l'hai detta te, ma a prescindere da tutto, cosa devi fare? Ti faccio pagare una multa e ti faccio una multa e tu paghi la multa. Stop. Quello è l'articolo 31. L'articolo 31 prevede la multa. Si paga la multa. Stop. Finisce lì. Per quello. Per l'articolo 4 invece giustamente loro dicono che l'articolo 4 possiamo fare tutto quello che ci pare. Quindi l'articolo 4 ti possono penalizzare, ti possono dare la sanzione, ti possono retrocedere, ti possono fare tutto. Perché l'articolo 4 non ha una spiegazione, ma l'articolo 4 viene usato così a random. Così, no, no, ma viene usato come se fosse un potere, diciamo, così, che puoi fare tutto quello che... Allora, giustamente gli avvocati della Juve dicono, noi l'articolo 4 non l'abbiamo violato. Prima cosa. Prima cosa in assoluto. Seconda cosa. Come ti sei permesso ad inserire questo? Perché se il reato che tu stesso vai a, se vogliamo, ad evidenziare è questa situazione, arriva alle plusvalenze. È ovvio che tu ti debba attenere a quello che è il reato. Tu dici che io ho effettuato le plusvalenze illegali, insomma, serie di cose che tu hai detto. Perché tiri fuori l'articolo 4? Qual è la motivazione che tu dai per interpellare questo articolo? È chiaro, no, 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 ragazzi. È chiaro, ed è chiaro nettamente, che questo sia evidentemente un potere malato. È chiaro perché una procura che anziché soffermarsi sugli articoli in maniera decente, in maniera normalissima, va a soffermarsi su altri articoli che non c'entrano niente, allora da sto punto di vista qui, ragazzi, io alzo le mani. Ma è normale che io ti vado ad alzare le mani, nel senso che non riesco a capire cosa succede. Perché se tu stesso mi dici, tu stesso mi dici, che l'articolo 4 è stato un articolo che da questo punto di vista non ha potuto, e ribadisco, non ha potuto rappresentare un reato specifico, mi devi spiegare per quale motivo tu lo dai per un reato di carattere economico. Cioè, se l'accusa è, hai esagerato con le plusvalenze, tu ti devi attenere all'articolo. Quindi, gli avvocati della Iule, questo dicono, tu puoi parlare fin quando ti pare, puoi parlare di articoli, puoi parlare di sanzioni, puoi parlare... Però l'articolo 4 è un articolo che non ha senso. Perciò il CONI, se fosse popolato da gente come si deve, dovrebbe bloccare l'articolo 4 e dire, aspetta un attimo, tu hai scritto l'articolo 4, ma questi, per fare l'articolo 4, se vuoi sapere che hanno fatto? No, sai, hanno guadagnato di più dalle plusvalenze. Ah, hanno guadagnato di più dalle plusvalenze? Ok, vado a leggere cosa c'è scritto qui. Articolo 31. Perché hai adattato l'articolo 31? Perché tu hai tirato fuori questo? Si adatta l'articolo 31, è l'articolo 31 che si adatta. Tutto qua è questo che io sto cercando di spiegare da tempo. Che quando tu tiri fuori un articolo e lo tiri fuori così, senza avere una cognizione, questo è un'irregolarità. È irregolare, capite cosa voglio dire? È irregolare. È irregolare. Irregolare vuol dire che hai violato le leggi, hai violato le norme, la slealtà sportiva. È quella riferita al giocatore o alle prestazioni. Nel senso, io ho comprato un giocatore che però in quel momento non poteva giocare per me. Quindi io l'ho comprato ma lui non poteva giocare. Vuol dire che non aveva tutto a posto. I documenti non erano a posto, le carte non erano a posto. Cosa fai? Lealtà sportiva violata. Lealtà sportiva articolo 4. Quello è l'articolo 4. Ripeto, in quale è 4. Ma se si parla di sanzioni di bilancio, di cose di bilancio, si parla dell'articolo 31, non dell'articolo 4. Punto. Pensate che c'è gente che a voglia te ha violato l'articolo 4. Quindi voglio dire, c'è gente qui che ha violato tutti gli articoli del codice e hanno fatto finta di nulla. Quindi non è che io voglio fare il polemico, che voglio fare confusione. Però è chiaro che se tu ti inventi le cose, poi perdonami, un po' di rabbia è normale che anche ci sia. Cioè sarebbe strano, francamente, se non ci fosse. Cioè te lo dico sinceramente. Poi ognuno ha le proprie visioni, ognuno ha le proprie opinioni. Io alzo le mani, ripeto, al momento in cui mi venite a dire, di articolo 4. Perché vuol dire che non capi niente di quello che si sta dicendo. Fatemi sapere un pochino nei commenti qual è la vostra opinione. Datemi un vostro parere a proposito della vicenda.